Mio caro Teo, ho ancora gli occhi stanchi, ma intanto aveva una nuova idea nel cervello, ed ecco nello schizzo. Sempre tela da 30, questa volta è la mia stanza da letto, solo che il colore deve fare tutto, dando attraverso la sua semplificazione uno stile più grande alle cose, e deve suggerire il riposo, o in genere il sonno. Insomma, la vista del quadro deve riposare la testa, o meglio l'immaginazione. I muri sono villa pallido, il pavimento è a mattoni quadrati rossi, il legno del letto e le sedie sono giallo, burro chiaro, il lenzuolo e i cuscini verde, limone, molto chiaro. La coperta rosso-scarlatta, la finestra verde, la tavola di toilette arancione, il bacile blu, e le porte sono lilla. E non c'è altro, nient'altro, in questa stanza, con le persiane chiuse. Grazie a tutti.